Per noi è un settore strategico importantissimo, nel nostro caso abbiamo la fortuna di avere un artista apprezzato a livello mondiale, quindi è il nostro dovere valorizzarlo. E in questo caso, grazie all'utilizzo e allo sfruttamento di diversi fondi europei, siamo riusciti a costruire negli anni quello che poi oggi potete ammirare. Grazie a tutti.